Andrevole Busine, qual è il suo giudizio su questo decreto che sospende la seconda verità dell'Imu? Intanto una cosa è chiara, questo governo non ha una strategia, non ha una linea guida, nemmeno su un tema come quello dell'Imu che era stato posto alla base della nascita e della tenuta del governo. Gli emendamenti non sono stati discussi, preclusione assoluta, un muro contro qualsiasi tentativo di migliorare questo decreto così importante. Quindi siamo delusi, sospendiamo il giudizio perché oggi si discute in aula, ma siamo molto ma molto pessimisti sull'atteggiamento del governo, un governo che non c'è. Per quanto riguarda invece, nel decreto si parla anche di fondi per la cassa integrazione, qual è il giudizio della Lega su questo punto? Qui è palese che i fondi sono insufficienti, l'abbiamo detto noi ma lo sa benissimo che è il governo. Noi avevamo suggerito di integrare questi fondi tagliando le pensioni d'oro, almeno quelle che sono state erogate col sistema retributivo, che sono obiettivamente uno scandalo. Neanche qui abbiamo trovato ascolto, chiusura totale su tutto. È chiaro che in una situazione in cui la pressione fiscale è così forte sul cittadino, qualsiasi tentativo, anche timido, anche se è solo una sospensione che vada nella direzione di abbassare il carico fiscale, va salutata comunque con favore, ma qui assolutamente non ci siamo. Qui è stata fatta una norma che nasconde le divisioni della maggioranza, che rinvia il problema ma che non lo risolve, anzi lo complica ancora di più. Le più danneggiate a proposito del Limu sono le imprese? Sì, qui è paradossale perché ieri Berlusconi e Pontida, che è il leader di una parte consistente di questa maggioranza, ha detto giustamente che il governo non crea lavoro perché il lavoro lo creano gli imprenditori, questi capitani coraggiosi che possono essere definiti degli eroi. E io aggiungo che possono essere definiti degli eroi anche grazie a questo governo che non fa niente per le imprese. Questo decreto è un'ulteriore conferma, non c'è nulla per le imprese se non un aumento ulteriore dell'Imu. In un momento in cui il reddito e quindi la capacità contributiva delle imprese crolla, perché la crisi è sotto gli occhi di tutti, questi aumentano l'Imu, il contrario di quanto è previsto addirittura dalla Costituzione.